Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla videorubrica segnalazioni in cui cerco appunto di segnalare ciò che ho trovato di interessante nel web che spero possa interessare anche voi in questo video vorrei parlarvi del linguaggio cinematografico della grammatica, della sintassi, del cinema e anche in parte della tv segnalandovi un sito piuttosto interessante, si chiama Cinescuola si tratta di un sito di didattica dell'audiovisivo che è attivo da molti anni, circa 10 e il cui scopo è quello di offrire strumenti, risorse e materiali per spiegare e comprendere il cinema e la tv si tratta di una vera e propria enciclopedia del cinema qui trovate Cinescuola, che è il nome di questa enciclopedia qui sotto il link, quindi www.cinescuola.it questo è il sito di Cinescuola, vedete esistono diverse sezioni home, adesso siamo alla home, dove trovate le varie sezioni e sotto una didascalia che vi spiega cosa in queste sezioni potete trovare quindi linguaggio, storia, genere, realizzazione didattica e contatti se andiamo sul linguaggio troviamo tutto ciò che può interessare chi coltiva lobby del cinema o chi semplicemente guarda film e vuole anche capire i meccanismi con cui i film sono costruiti oppure chi vuole approfondire questi argomenti perché viviamo in un'epoca, la cosiddetta epoca della transmedialità e quindi è necessario sviluppare determinate competenze e far sì che i nostri studenti le sviluppino e qui possiamo trovare gli elementi di base dell'inquadratura per esempio ecco, cliccando su inquadratura vedete, abbiamo le varie relazioni prospettiche come si compone l'inquadratura la sezione aurea, vedete, eccetera e questo è il menu della sezione linguaggio per esempio la messa in scena, il montaggio e quindi vedete il sottomenu del montaggio che cos'è il montaggio le regole di continuità e raccordi e così via tutto espresso in un linguaggio molto semplice alla portata di tutti anche degli studenti vediamo poi la storia qui possiamo spaziare in una serie di sottosezioni vedete che sono abbastanza interessanti per esempio c'è la storia qui in fondo, mi pare del linguaggio cinematografico o anzi la storia del linguaggio cinetelevisivo è molto sintetica, molto semplice è uno schema può essere un riferimento interessante dell'evoluzione del linguaggio della cinematografia e della televisione molto interessante può essere anche la storia della tecnologia cinetelevisiva e quindi qui troviamo alcuni elementi base che possono servire anche in questo caso per darci il contesto entro il quale collocare determinati eventi come può essere un film una serie tv eccetera si va dall'invenzione del cinematografico dei fratelli Lumière fino alla nascita di YouTube ancora è interessante la storia della fiction e quindi delle serie tv vedete che qui abbiamo una breve introduzione e poi le serie tv in Italia e si comincia con gli anni 50 io ricordo benissimo sia l'isola del tesoro che l'idiota oppure la freccia nera Gian Burrasca fino ad arrivare a Sandokan Marco Polo e così via altrimenti possiamo anche vedere la storia delle serie tv usa ricordate ai confini della realtà Ichiko che racconti gialli di Ichiko Rintintin e così via fino ad arrivare a mi pare l'ispettore Colombo lo guarda vostro e mia mamma mia spazio 999 fino ad arrivare a Twin Peaks Twin Peaks degli X-Files vi mostro anche la sezione didattica poi lo potrete ovviamente esplorare da soli ecco qui per esempio possiamo vedere degli esempi di analisi di film che so Orizzonti di Gloria vedete ci sono vari esempi per esempio questa è l'analisi della struttura narrativa andiamo a vedere come viene fatta e vediamo che la struttura narrativa di un film ci offre una sorta di scheda analizzata per sequenze le sequenze le sequenze sono scomposte nelle scene quindi la struttura narrativa vera e propria accompagnata dalle immagini oppure abbiamo l'analisi di alcune scene e questo è interessante perché vedete di queste scene che poi possono essere riprodotte grazie a questo video abbiamo il tipo di ripresa long take che è una sorta di piano sequenza le carrellate la musica diegetica extra diegetica la funzione che è la musica e così via ancora chiedo scusa abbiamo poi l'analisi formale l'analisi contenutistica e così via poi siamo quindi tra rispunto da queste proposte da questi modelli per riportarli anche nella nostra attività didattica e in quella dei nostri studenti lascio a voi l'esplorazione delle altre sezioni più in dettaglio il mio compito era solo segnalarvi l'esistenza di questo sito torno alla home per mostrare una cosa che può sfuggire e cioè il canale youtube di Cinescuola se clicchiamo qui ci troviamo di fronte a uno dei canali italiani più completi e ricchi per quanto riguarda la storia del cinema la tecnica cinematografica il linguaggio cinematografico guardate vi mostro direttamente i video sono sono tanti non so neanche quanti siano forse qui c'è scritto non lo trovo adesso ma non è importante vi mostro ecco le playlist così capite che cosa potete trovare per esempio i flashback per esempio gli inserti le dissolvenze 29 video sulla recitazione i vari tipi di recitazione il trucco e l'acconciatura vedete ci sono tutti gli aspetti da quelli della produzione post produzione e anche pre produzione lo zoom l'altezza di ripresa la location i suoni extra diegetici è proprio molto dettagliato e per ognuno di questi argomenti ci sono a volte anche 10, 12, 20 video differenti vedete è ricchissimo guardate continuano le playlist adesso non le ho contate ma abbiamo centinaia un centinaio saranno di playlist centinaia centinaia di video che si possono utilizzare per spiegare agli studenti per esempio determinate tecniche di ripresa di composizione dell'inquadratura e così via bene dato che oggi si parla tanto di media educa e giustamente di media education di storytelling di multimedialità ritengo che questo sito e il canale youtube che lo accompagna siano delle risorse veramente utili in ambito sia disciplinare che interdisciplinare vi saluto e vi auguro una buona serata